Un patrimonio di 40 milioni di euro, decisamente troppo per un agricoltore. La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha proceduto al sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili riconducibili a Giovanni XIII, 41enne di Copertino, già condannato nel 2000 per associazione per delinquere e già noto alle forze dell'ordine per ricettazione, rapina e stupro. Il provvedimento è stato emesso dalla prima sezione penale del Tribunale di Lecce, su proposta del direttore della DIA, generale Antonio Girone, dopo lunghe indagini che hanno evidenziato come 13 gestisse un ingente patrimonio frutto di attività illecite. Tra i beni sequestrati, tutti a Copertino, Lequile e Galatina, 8 immobili, tra cui una villa di 300 metri quadri in cui il 13 abitava con la famiglia, 40 terreni per complessivi 42 ettari, tutti coltivati, tra cui un appezzamento ceduto ad una società e adibito ad impianto fotovoltaico, due conti correnti bancari per un totale di 70 mila euro. Il 14 luglio prossimo è prevista l'udienza per la convalida del provvedimento.